La lezione dedicata all'illuminismo sarà la prima di almeno un paio, se non tre lezioni dedicate all'illuminismo. L'illuminismo è un movimento culturale, un movimento filosofico, letterario, un movimento politico di fondamentale importanza nella storia dell'Europa e poi del mondo. È un movimento, vi dicevo appunto, culturale, politico, letterario, filosofico, eterogeneo, eclettico. Non possiamo parlare di un unico illuminismo perché sono molti i volti dell'illuminismo, molte le sfaccettature. È un movimento che segnerà profondamente la storia dell'Europa, in modo particolare la storia della Francia. Nasce a fine 600 come movimento in Inghilterra, parte dall'empirismo inglese, movimento filosofico e politico che poi vedremo sia per quanto riguarda la filosofia politica sia per quanto riguarda la filosofia della scienza. Nasce a fine 600 in Inghilterra, si diffonderà nel 700 in tutta Europa, ma la casa madre, la casa dell'illuminismo, sarà la Francia. La Francia dei lumi, dei filosof, la Francia dell'illuminismo e parlando di Francia ovviamente non potremmo che dire Parigi. Parigi, la capitale, la città dell'illuminismo europeo. Dunque il movimento eclettico e eterogeneo che nasce in Inghilterra fino al 600 si diffonderà in Europa lungo tutto il 700 e metterà radici soprattutto in Francia, toccherà anche altre nazioni, regni, stati, si diffonderà in Germania e oggi vedremo appunto Kant con il suo celebre pamphlet che cos'è l'illuminismo, risposta a domanda cos'è l'illuminismo, si diffonderà di meno nell'impero sburgico, in Spagna e in Italia. Però ci sono città italiane come Napoli e soprattutto Milano che saranno città dell'illuminismo, città illuministe, città di medicina, città di scienze, città di caffè letterari, città di filosofi illuministi. Il prossimo lunedì appunto con l'intervento delle Fede Rebecca vedremo quello che è probabilmente il massimo illuminista italiano dei principali, Cesare Beccaria con la sua opera dei delitti delle pene. Ci siamo di capire quali possono essere i caratteri principali dell'illuminismo e poi ci concentreremo su Emanuel Kant. Allora l'illuminismo lo dice già ovviamente la parola, il concetto illuminismo ha a che fare con la luce e questa luce, questo lume, da cosa è portato, cosa sorregge questo lume? La ragione. Il lume in questione è il lume della ragione. Dunque i filosofi, gli intellettuali, i letterati, i politici, i scienziati, i luministi sono uomini, donne, appaiono le prime donne, devoti alla ragione. Allora apposta questa espressione dei voti, perché fanno della ragione il motore della vita dell'uomo, della ricerca dell'uomo. Dunque la ragione possuta a tutti gli uomini è la grande madre dell'emancipazione umana. Cioè la ragione migliora la vita dell'uomo, la ragione è lo strumento che gli uomini hanno per migliorare la loro vita, migliorare la loro condizione economica, sociale, culturale. Dunque è un movimento che è estremamente fiducioso nelle possibilità che possiedono gli uomini di emanciparsi, di crescere e migliorare, a partire dall'uso della ragione. Ma che uso della ragione? Un uso critico. La ragione, se usata in maniera critica, se alimentata, può essere una ragione che emancipa l'uomo. La ragione. Questo movimento è dunque figlio di Cartesio, sicuramente, è figlio di Jean-Sebastien Locke. Sarà figlio poi ovviamente degli illuministi francesi, di Diderot, d'Alembert, per poi passare appunto a Kant, anche Montesquieu. Ci sono tantissimi intellettuali, filosofi, illuministi. E abbracceranno molti rami del sapere, dalla letteratura alla filosofia, dalla medicina alla scienza, passando appunto per tutta una serie di emancipazioni, di slanci vitae, proprio nel costruire delle nuove frontiere del sapere. E dunque c'è anche dell'ideologia in questa espressione, in questo concetto, in questa parola. L'illuminismo. Perché illuminismo vuol dire fare luce. Se faccio luce vuol dire che c'è ombra, che c'è buio, che c'è oscurità, ok? La storia di luce nell'ombra. Perché i luministi si pongono in maniera critica rispetto al passato, bene, rispetto al medioevo, rispetto alle credenze, alla magia, alla religione, alla tradizione. Dunque un movimento letterario, culturale, politico, misoglio, artistico, che fa un uso critico, se non addirittura spregiudicato della ragione, la quale deve mettere in luce le contraddizioni, le miserie, le criticità del passato, del passato politico, l'assolutismo, che in realtà è un presente, del passato religioso, che in realtà è un presente, solo del cattolicesimo. Dunque è una religione estremamente, è una filosofia, è un movimento estremamente critico nei confronti delle religioni rivelate, delle superstizioni, è un movimento estremamente critico nei confronti dell'assolutismo politico, è un movimento assolutamente critico nei confronti anche di quell'ancien regime che vi ho parlato nelle scorse lezioni. C'è un ancien regime che vi ho detto non essere statico, ma è una società comunque tradizionalista. E rispetto alla tradizione dell'ancien regime, gli luministi si muoveranno in maniera critica. Noi siamo per tanti aspetti figli anche dell'illuminismo, nel bene e nel male, perché tutti i movimenti dal mondo greco, o tutte le epoche, dal mondo greco al mondo romano, al mondo cristiano al mondo dell'illuminismo, cioè le grandi radici della nostra Europa, portano con sé ricchezze e ovviamente difficoltà. Chiaro, noi siamo figli dei greci, figli dei romani, figli della cristianità e figli dell'illuminismo. E queste quattro già epoche, questi quattro grandi fondamenti della nostra Europa, presentano elementi anche in contraddizione, presentano elementi anche di contrasto, però se ci pensate sono tutti caratterizzati da un uso della ragione, perché anche la cristianità, abbiamo visto in filosofia, fa dell'uso della ragione comunque un uso, seppur moderato e limitato rispetto al verbo, rispetto a Dio, ma un uso comunque importante nell'ambito dell'astronomia, della medicina, delle scienze. È chiaro che l'illuminismo criticherà le religioni, criticherà le religioni rivelate, criticherà le superstizioni, la ritualità, però non è un caso che il mondo illuminista nasca nell'Europa della cristianità, perché nella nostra Europa, anche in piena cristianità, anche in piena epoca medievale, che abbiamo visto in queste settimane, da Tommaso d'Aquino, Guglielmo d'Aocca, per tanti altri li potrebbero vedere, l'uso della ragione non è mai stato abbandonato, dunque noi siamo più che mai figli della ragione, gli illuministi figli di una ragione critica, va bene? La ragione critica, opera poi di Kant, deve guidare l'uomo, e dunque è un metodo anche l'illuminismo, l'illuminismo sviluppa un metodo, ci affidiamo alla ragione per conoscere che cosa? Gli ambiti, tutti gli ambiti, per conoscere in ambito fisico, in ambito astronomico, per conoscere in ambito poi sociale, in ambito politico, in ambito religioso, ci affidiamo alla ragione per poter migliorare le nostre conoscenze, le nostre competenze di come è moderno l'illuminismo, e dunque per poter cambiare, trasformare la società, la realtà. L'illuminismo è un movimento dinamico, è un movimento che non si limita a dire guardo, osservo la realtà, la voglio cambiare, e dunque possiamo dire che l'illuminismo è un movimento riformista, cioè porta con sé la voglia, l'esigenza, la spinta di fare delle riforme. Riforme. Il termine riforma porta con sé un'ulteriore prospettiva di cambiamento ma in meglio. Quando voglio fare una riforma, sono un illuminista, voglio farla in meglio, poi possiamo discutere il meglio per chi, tema spinosissimo oggi, riformo, riformo per chi, per conto di chi, per migliorare le condizioni di chi, perché agli illuministi manca poi un pezzo di analisi, a mio avviso, manca poi un'analisi magari sociologico più complessa, perché nella società non siamo tutti uguali, dunque non tutte le riforme cadono nel prospettivo di migliorare la vita per tutti. Loro hanno questa ambizione che le riforme possono migliorare la vita di tutti, ma in realtà nella nostra società siamo molto diversi, anche perché c'è il disoccupato, c'è il proletario, c'è il proprietario di banche, c'è appunto il tramviere, c'è l'insegnante, c'è il medico, c'è l'avvocato, c'è il proprietario della multinazionale e c'è il generale, siamo molto diversi nella struttura sociale e economica della società, dunque delle riforme che migliorino a 360 gradi le condizioni di vita di tutti sono molto complesse. Gli illuministi sono in animatica, questa anche aspettativa ideale, tra molti aspetti, di un miglioramento lento o veloce, che esso sia, ma progressivamente per tutti. Bisogna produrre una società, potremmo dire aperta, una società di opportunità, in cui sono molto moderni, partoriscono di fatto i grandi movimenti del liberalismo e della democrazia. Il liberalismo ha già messo radice in alcuni autori, in Locke, la democrazia ha già avuto alcuni autori come Althussius, dunque autori del 600 hanno già fatto qualcosa su la democrazia, abbiamo fatto nel percorso di storia, nel dibattito di punne, cioè i temi sono già arrivati, democrazia, liberalismo, abbiamo visto il Bill of Rights, l'Abbia Scorpus, l'Illuminismo prende questi temi dell'Abbia Scorpus, del liberalismo, dei diritti, della società di poteri, e li porta ancora più avanti, cioè farà una critica durissima all'assolutismo e dirà la democrazia, non so, Rousseau, il liberalismo, Montesquieu, oppure appunto Kant, sono delle prospettive politiche migliori dell'assolutismo, migliori dell'ancien regime, perché mettono al centro i diritti e i doveri dei sudditi che diventano cittadini. Il tema del cittadino e dei diritti di cittadinanza è figlio dell'illuminismo. Prego. Non ci fermano tanto alla lettera di un'administro? No, 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 sono, maggior parte, filosofi, intellettuali, dunque c'è il primato sempre della vita teoretica. Alcuni, alcuni, ad esempio di Rode Lambert, produrranno un'enciclopedia delle scienze, la produrranno, la scriveranno, la editeranno, che è un'enciclopedia, cioè non è una riflessione su cui deve essere il sapere, producono anche un'enciclopedia che è un nuovo modo di sapere. Voltaire propone un va de me, anche per il governatore, il governante, il re, illuminato. Se tu mi dici, però, non sono poi dei militanti politici in prima persona, per far questo servirà un passaggio che è il passaggio politico della rivoluzione francese. Molti rivoluzionari francesi, se non quasi tutti, sono figli di questi ideali, di questi cambiamenti. Dunque le idee dell'illuminismo influenzeranno i rivoluzionari americani, George Washington, Jefferson, Adams, e influenzeranno ovviamente i rivoluzionari francesi, ok? Da Lafayette a Robespierre, Danton, ma anche un Napoleone Bonaparte figlio da giovane ufficiale militare di un ideale tutto sommato potremmo dire illuminista. Dunque le idee illuministe Francesca influenzeranno l'agire politico all'interno dei strutturi d'America nascenti delle colonie americane e del futuro dei strutturi d'America all'interno della Francia dell'assolutismo e poi anche in paesi come l'Italia ovviamente ci sono anche delle rivolte in seguito della rivoluzione francese delle insurrezioni animate da Napoli ma poi anche da Torino e dalla rivoluzione francese e dunque a loro volta dall'illuminismo. È uno spartiacque la ragione guida l'uomo all'uscita dalla condizione di subalternità di minorità di un antropocolo di Iracan la ragione è ciò che dobbiamo affidarci certamente l'illuminismo ha questa fiducia nella ragione noi nel nostro laboratorio sull'ero anche sull'affettività su altri temi filosofi e psicologici abbiamo visto che la ragione ha comunque moltissimi limiti gli illuministi la esalteranno perché è pur vero che ha molti limiti ma se noi vogliamo organizzare un percorso di conoscenza scolastica vogliamo organizzare la vita nella città vogliamo organizzare un sistema economico noi ci fonderemo sulla ragione e anche chiaramente con le relazioni poi affettive perché noi siamo un mix un mix in difficile equilibrio tra affettività tra sentimenti e razionalità però la razionalità rimarrà sempre io però in questo sono un po' figlio dell'illuminismo oltre che poi della svolta appunto marxista e io ho estremamente ancora fiducia nelle possibilità sempre razionali dell'uomo perché la nostra epoca ci dimostra che queste pulsate razionali sono più volte entrate in crisi nel novecento la prima e seconda guerra mondiale oggi con l'inquinamento oggi con un'economia che non è più misura d'uomo dunque non basta l'uomo razionale l'uomo razionale sicuramente può emanciparsi però se tu usi la ragione poi per dominare conquistare sfruttare o inquinare non hai portato con te immediatamente un miglioramento delle condizioni della vita però possiamo dirci una cosa ragazzi è vero che oggi molti razionalmente producono inquinando ma se c'è qualcosa che ci potrà far superare l'inquinamento sarà ancora una volta un uso giusto critico della ragione non ci affideremo soltanto al vogliamoci bene è chiaro certo servirà un'etica potrà servirà anche un sentimento ecologico ma poi dovremmo organizzarci razionalmente una società che abbia nel riciclo nel riciclo nell'energia alternativa una possibilità di vita in comune dunque esaltazione della ragione va bene cosa importantissima potremmo dire che la ragione porta a processo questa ragione critica molti aspetti della vita della vita sociale della vita culturale della vita politica e vi dicevo già prima i principali obiettivi polemici sono la religione la magia la superstizione sono l'assolutismo l'ignoranza tutti questi aspetti vengono duramente criticati e dunque gli avversari dell'illuminismo saranno innanzitutto i poteri più tradizionalisti quali le monarchie assolute ok non tutte ma e poi e poi la chiesa la chiesa cattolica romana e le monarchie assolute avverseranno l'illuminismo l'illuminismo è criticato da questi poteri da queste soluzioni l'illuminismo si diffonde in Inghilterra in Francia e produce un'idea di intellettuale nuovo chi è l'intellettuale illuminista l'intellettuale illuminista è l'intellettuale colto ovviamente l'intellettuale in parte spragiudicato è l'intellettuale che indaga nuovi campi del sapere e l'intellettuale senza Francesca arrivare all'intellettuale militante politico per capirci alla Jean Paul Sartre nel novecento l'intellettuale angagé cioè l'intellettuale che sceglie anche in questo caso io appartengo all'idea che l'intellettualità in realtà pratica mi conoscete poi produca la militanza per me si deve sempre scegliere da che parte stare è chiaro l'idea di intellettuale che sceglie da che parte stare che non è l'intellettuale greco che spesso Platone si sceglieva ma l'intellettuale greco addirittura esaltava a volte il non prendere posizione per rimanere solo ad osservare il filosofo neutro che esalta Pitagora poi Pitagora era uno che è talmente ben visto anche duro e intollerante che sceglieva l'intellettuale filosofo illuminista è un intellettuale impegnato non un militante politico come poi nel novecento ma è un intellettuale che comunque si mette nel campo della riforma e delle trasformazioni sociali e dunque sceglie sceglie è un intellettuale che prende posizione contro la tortura Voltaire va bene contro la pena di morte Cesare Beccaria contro l'assolutismo Montesquieu parliamo di alto borghesi parliamo di medio borghesi parliamo di o anche nobili come Montesquieu cioè sono intellettuali che prendono che prendono posizione prendono posizione e cercano proprio di proporre delle prospettive di cambiamento della società va bene cioè i loro scritti hanno una valenza anche educativa una sorta di prospettiva di educazione e dunque sviluppa una cultura che spesso entra in opposizione alla cultura dominante l'intellettuale illuminista rompe rompe con la cultura dominante rompe con una certo tipo di cultura che è quella della chiesa che è quella regia dunque è un intellettuale che fa opposizione culturale e questo è un aspetto importante quali sono i luoghi di questa nuova cultura sono tanti ma ce n'è uno nuovo che vi voglio presentare è del caffè il caffè il caffè come luogo pubblico in cui ci si incontra per leggere estratti di romanzi Voltaire ad esempio presentava nei caffè o a casa a casa di donne o a casa di Aldi Nobili Illuminati o di Borghesi presentava appunto proprie opere letterarie e propri scritti va bene dunque nel caffè ci si ritrova e si esce per ascoltare la presentazione di un libro ma capite la modernità dell'illuminismo ok come voi oggi decide ad andare la Mondadori la Feltrinello il Circo dei Lettori perché arriva un scrittore a presentare un libro io non voglio entrare nel merito di chi presenta cosa lo sapete non sono un conservatore dunque ogni tempo ha i propri scrittori ogni tempo ha la propria lingua voi andate ad ascoltare gli scrittori i musici i cantanti che presentano quello che a voi piace ma l'idea di uscire e andare a una presentazione è un'idea che nasce ad esempio nel mondo illuminista prima non c'era il mondo delle monarchie nel mondo medievale era quel mondo o a palazzo rappresentate teatrali o nel mondo medievale nelle scuole abbiamo detto ok? nelle scuole o nelle università lì c'era luogo della cultura qua luogo della cultura diventa anche il caffè e a pagina 75 avete questo bel dipinto che ci rappresenta la prima lettura dell'orfanello cinese di Voltaire nel salotto di Madame Gaufrain cioè a casa di Madame Gaufrain tu dici ma che casa certo la nobile donna come vedete in questo salone pieno di razze di dipinti ospita la lettura la preview ok? non è ancora dato in stampa il libro di Voltaire e lui ne dà una lettura in prima visione in prima udizione a chi amici intellettuali e dunque l'avete già capito l'illuminismo non è un movimento proletario e contadino cioè l'illuminismo è un movimento artistico culturale politico letterario di medio alto chiaramente classe sociale soprattutto l'alta borghesia o i libri professionalisti medici professori o alcuni nomi è chiaro questa cosa va bene sono molti poi gli aspetti che vedremo in ambito medico in ambito economico dove vi danno prossime lezioni prima di passare a Kant un'ultima cosa su questa introduzione l'illuminismo ha sicuramente un'opera che è l'emblema di questa prospettiva ottimistica di quest'idea che la ragione possa emancipare battere l'ignoranza e la trovate anche in un'edizione dell'epoca a pagina 77 ed è la celeberrima enciclopedia delle scienze e delle arti edita scritta curata da due intellettuali i due enciclopedisti che sono appunto Diderot e d'Alembert Diderot e d'Alembert costruiscono un'opera che è estremamente moderna nel concetto organizziamo un'enciclopedia dei saperi facciamo un'enciclopedia in cui noi in ordine alfabetico inseriamo delle voci delle voci alla voce e economia alla voce a agricoltura e chiamiamo stiamo seguendo degli esperti per curare la voce chiedo a questo studioso intellettuale economista di fare la voce economia economia politica la farà Rousseau ad esempio economia politica chiedo a questo esperto medico di fare la voce sul corpo umano su questa malattia chiamo questo esperto ingegnero architetto di fare questa voce le voci vengono fatte curate redatte scritte da esperti in materia e il sapere non è organizzato per essenza per priorità spirituale sono qui te lo spiego dunque per una priorità quasi valoriale metafisica ma in ordine alfabetico alla voce a che sarà la prima avrà agricoltura se invece faccio un'opera di stampo qualitativo valoriale la minciopedia comincerà non c'era prima ma con D con Dio è chiaro a anima invece organizzano le enciclopedie dividendola per settori quale arti quai mestieri quale scienze quale filosofia sviluppiamo ogni voce a partire dalla lettera alfabetica la A la B la C la D dunque un'organizzazione specialistica quantitativa e non un'organizzazione valoriale metafisica un'organizzazione a partire dall'essenza delle cose dunque quelle che sono più importanti nell'essenza rispetto a quelle che lo sono meno prego Gabriele è la prima c'erano dei trattati delle raccolte ma è la prima enciclopedia abbiamo detto che Aristotele ha provato a dare vita a un'opera l'organum ricordate l'organum che doveva essere l'insieme tutti gli scritti di logica è chiaro e poi dopo Andronico ha provato a dare vita ad una sorta di enciclopedia aristotelica però non c'è stato questa questa prospettiva così realizzata gli enciclopedisti danno vita a questo sapere va bene ha organizzato è la prima enciclopedia moderna in questo e guardate tra l'altro pagina 67 ha le illustrazioni le illustrazioni di attrezzi agricoli di macchine va bene questo è veniamo a Kant dopo le lezioni poi vedremo le svolti in ambito economico vedremo altri autori vedremo Beccaria però detto questo per chiudere questa introduzione abbiamo ancora una volta sapete i miei autori preferiti ma quale studioso di filosofia non lo può amare Emanuele Kant perché Emanuele Kant ha scritto delle opere pietre miliari del pensiero un po' in ogni ambito la pace perpetua che vedremo poi più avanti in fisopolitica opere di conoscenza che ce l'hanno pure che ce l'hanno prate in ambito morale e qui ci scrive appunto un pamphlet nel 1783 sul telefono ce l'avete dovete aprire appunto Whatsapp e prendere il testo che vi ho mandato è lo stesso lo leggiamo insieme è un articolo che si intitola risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo che poi con la professoressa De Paulis e con la collega vedrete appunto poi in tedesco ok allora ci siete? avete aperto? Alice ci sei? lo leggiamo si partiamo risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo opera appunto del 1783 che nasce nel 1724 e muore nel 1804 l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità di cui egli stesso è colpevole questo nuovo stato di Whatsapp fantastico o su Facebook che cos'è l'illuminismo è l'uscita dall'uomo dell'uomo dallo stato di minorità di cui egli stesso è colpevole l'illuminismo dunque è un'uscita da una condizione di inferiorità di sudditanza di incapacità di debolezza ma è l'uscita da una condizione di minorità intellettuale innanzitutto che l'uomo deve imputare innanzitutto a se stesso ecco che l'illuminismo mette l'accento sulla colpevolezza che noi uomini a volte abbiamo nel rimanere nell'ignoranza perché canso sterrato poi lo vedremo che l'ignoranza è comoda l'ignoranza è un comodo divano in cui passiamo delle ore è un po' come Homer Simpson quel divano poi prende la forma del nostro corpo e dunque noi da un divano che è la forma del nostro corpo fantastico piacevole non ci alziamo più non usciamo più dunque l'illuminismo è dunque un movimento di uscita di exit ma di exit da una condizione di ignoranza ma di una bad ignorance cioè non di una cattiva ignoranza non dell'ignoranza socratica dell'ignoranza non l'ignoranza del solito non sapere ma da un'ignoranza comoda piacevole non un'ignoranza oziosa un'ignoranza consapevole che dunque mi stimolo verso la meraviglia no il non voler proprio sapere stare nell'ignoranza che è una bambagia chi è colpevole è l'uomo andiamo avanti queste righe le commento parola per parola minorità è l'incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro è giunto l'ora uomini di uscire dall'ignoranza dalla condizione di minorità chi è minorato chi è cosa di minorità colui che non si serve della propria intelligenza senza essere guidato è colui che rimane è colui che rimane accendo così anche le puoi vedere è colui che rimane in una condizione di ignoranza di inutilizzo della ragione sempre in attesa di una guida di un tutor l'ignorante è colui che rimane comodamente in quella condizione di ignoranza sa che è difficile e faticoso usare l'intelligenza allora preferisce farsi guidare da un altro colpevole è questa minorità se la causa non dipende da un difetto di intelligenza ma dalla mancanza di decisione del coraggio di servirsi di essa senza essere guidati da un altro arrivo subito perché colpevole perché se tu sei in difetto cioè tu hai una malattia mentale hai una deficienza hai dunque una malattia conclamata conclarata allora tu hai una diagnosi e pertanto tu non sei capace di fare calcoli collegare le cause gli effetti hai dei danni cerebrali ma se non è per questo motivo vedete perché è ottimista l'illuminismo la causa dell'ignoranza sei soltanto tu sei tu in prima persona pigro pelandrone infatti non sopporo gli studenti non riesco ma cosa non riesco quando tu fatti di correre i cento metri e di battere bolt non riesco a battere bolt va bene è chiaro ma stiamo parlando di provare ad esercitare l'intelligenza la ragione in modo critico se non lo fai sei soltanto tu responsabile di quell'impigrimento della tua ragione ti manca la decisione certamente ragazzi ripeto è molto forte qua Kant lo so che è più difficile di come dice Kant perché noi abbiamo problemi sentimentali affettivi di depressione a volte di mancanza di autostima di convincimento Kant qua e invece di slancio vitale ti dice uomo tu hai la ragione usala se non lo fai è perché sei nella condizione di non essere deciso ti manca la decisione se la decisione non è facile non è facile prendere decisioni è chiaro Luculico ci dice la decisione però è solo nelle tue mani ma ha ragione perché soltanto voi prendete in mano la vostra vita e quando non state bene anche in questi giorni con qualcuno che parlo alla fine la mia conclusione è sempre solo una dipende da te chiunque ti può venire ad aiutare ma alla fine dipenderà da te perché se tu non prendi la decisione di compiere quel passo nessuno lo farà per te e che ha dunque la tua decisione che a volte non riesce a prendere non riesce a compiere però è tua e ti manca il coraggio serve coraggio perché per imparare per essere intelligente serve coraggio quando si è stupidi sapete ragazzi che succede è una scusa io non sono capace sono stupido papà mamma professore amico lo stupido è colui che sempre si affida ad altri non mi hai lasciato un po' capire non mi hai lasciato un po' grazie prego ciao ciao capite ciao Giorgio ti ho sentito la parola che se tu rimani nell'ignoranza e non utilizzi il coraggio sei nella condizione di pigrizia comoda perché saranno gli altri a dover decidere per te bruttissimo secondo me almeno ti togli la responsabilità e sono gli altri a dover coraggio cioè mamma e papà in primis nella fase appunto dell'infanzia poi dell'adolescenza gli amici gli insegnanti invece sei tu che devi decidere perché la tua vita devi servirti dell'intelligenza senza essere guidato da un altro dunque l'uminismo è quel movimento che vuole portare l'umanità all'uscita da una condizione di minorità che era imputabile l'umanità stessa cioè un'umanità che dice io uso intelligenza senza tutor senza guida prego Giorgia assolutamente per Platone per Platone perché i greci in uso della ragione lo esaltano per Platone alla fine l'ignorante molto bene Giorgia è colui che è incatenato al mondo della caverna incatenato di fronte alla parete riguarda le ombre e quando qualcuno gli dice che la verità è un'altra poiché è faticoso mettere in discussione tutte le conoscenze precedenti rimane molto bene rimane nella comodità delle ombre ed ecco qual è il motto sapere aude prego Giulia però comunque questo dice il fatto che ci sia una ragione che ci sia una ragione perché gli illuministi partono da quest'idea che tutti gli uomini sono dati di ragione e nel mondo che loro immaginano se tu educhi l'uso della ragione dalla scuola dalla famiglia in avanti gli uomini avranno strumenti per scegliere non è un caso che la scuola pubblica ma quando è nata con la rivoluzione francese l'idea di dare una scolarizzazione e dietro questo c'è un'idea ottimista c'è l'idea che voi ragazzi che i ragazzi del passato che i bambini gli allievi gli studenti se educati possono avere l'uso critico della ragione attenzione questo ottimismo iniziale si scontrerà poi col fatto che le scuole possono essere ideologiche possono in sé questo sarebbe un tema che mi portano ad andare a notte a fare un'altra lezione perché poi le scuole sono anche trasformate in luoghi in cui tu non educhi all'uso della ragione critica ma semplicemente ad imparare come dei pappagalli dei contenuti io però vi dico che anche imparando i pappagalli dei contenuti può accadere che voi facendo Lucrezio Seneca facendo Dante Petrarca un domani Leopardi vi si accenda una luce e diciate ah ah perché è ovvio che si può vivere senza Dante Shakespeare Goethe Platone Socrate ma come si vive si può vivere senza Shakespeare ma come si può vivere senza letteratura ma come si può vivere senza Cina ma come non è un problema se si possa guardate che se voi foste in Norvegia ho fatto con una mia extraellieva che sta laureando ad Oslo mi ha detto l'università sono pochi è facile sono 4 anni abitanti e dunque non è l'Italia l'università sono spettacolare la spettacolare c'è tutto 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 sempre dispone per lo studente ma la cosa che manca completamente in quel mondo aperta parente guardate che il mondo con il tasso più alto Norvegia Svezia che ha dei suicidi e la cultura letteraria umanistica se vi chiedessi già dei letterati norvegiani avete difficoltà ci sono ultimamente ma nella storia e dunque c'è una carenza di affettività c'è una carenza di dimensione umana perché un mondo completamente scientifico tecnico in cui il peso dato alla cultura umanistica probabilmente troppo l'Italia sta fin troppo probabilmente è chiaro è talmente basso che quel tecnicismo produce una certa aridità per noi europei per noi latini quel mondo senza servante senza questa letteratura è un mondo distante per me la scuola deve insegnarti queste cose però ne possiamo discutere gli umanisti penso ad esempio come un po' gli umanisti che la cultura sia scienza letteratura filosofia tecnologia c'è dall'ingegneria all'architettura vanno a braccetto con chiaramente letteratura e filosofia però è un caso che poi i licei rinasceranno proprio nella Francia nella Germania anche lì quelli pubblici dopo dopo la rivoluzione va bene ho pochissimi minuti dunque chiudiamo abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza e qua vedete serve coraggio perché se voi non usate l'intelligenza e non avete coraggio rimanete appunto nella sudditanza questo è il motto dell'illuminismo sapere aude cioè bisogna essere coraggiosi bisogna osare osate ad usare l'intelligenza e voi ragazze che l'avete sempre usate ovviamente ma quando nella storia avete fatto proprio questo motto perché perché i luministi ancora una volta sì ha qualche apertura alle donne ma un movimento di maschi quando questo motto che però loro hanno riproposto quando questo movimento verrà fatto proprio anche dalle donne poi nell'ottocento le donne quando sono intelligenti in maniera critica hanno rovesciato e cambiato il mondo è chiaro perché hanno avuto il coraggio di dire ma perché io devo obbedire a mio marito il perché è lui che lavora è lui che porta a casa lo stipendio è lui che è saggio è lui che educa usa la ragione sei sicuro che sia così la rete sotto pigrizia e viltà sono le cause per cui tanta parte gli uomini dopo la natura li ha lungo tempo liberati dall'altro guida naturali termaiorennes rimangono tuttavia volentieri minorenni a vita oggi la ragione ci ha portato ad essere più indipendenti dalla natura a fine settecento noi siamo cresciuti sempre di più nella capacità di essere indipendenti dalla natura non guardiamo la natura un qualcosa di fatto magico che ci travolge dunque ci siamo emancipati dalla natura la rivoluzione scientifica tecnologica le rivoluzioni economiche ma rimaniamo comunque minorenni per le bambaccioni a vita bamboccioni a vita perché riesce tanto facile agli altri a ridersi ai loro tutori se voi decide di rivedere minorenni saranno gli altri a decidere per voi perché quando uno non fa un uso critico della ragione troverà sempre qualcuno che lo guiderà ci sono sempre le persone che si propongono e guardate chi sono è così comodo essere minorenni se ho un libro che pensa per me stupendo un direttore spirituale che ha coscienza per me un medico che valuta la dieta per me non ho certo bisogno di sforzarsi da me e allora ci sarà sempre un professore un prete direttore spirituale possiamo immaginare ok un medico che penserà per me che deciderà per me perché tanto io oggi in campo medico è bene affidarsi alla medicina sempre con uso critico perché noi quelle conoscenze non lo possiamo avere però magari anche informarsi lì perché voi fate un liceo e di questioni scientifiche biologiche anatomiche imparate qualcosa imparate di queste questioni ne siete a parlare dunque di sgrossare l'ignoranza per cercare di capire cosa vuol dire la salute cercare di capire che rapporto c'è con Dio con l'interiorità con la spiritualità per eliminare credulonerie per eliminare coloro che si propongono nella tua vita come delle guide che possono essere appunto i guru i santoni o che possono essere i genitori che pretendono ancora decidere la vostra vita quando in 30 o 40 anni abbassate pure o anche 18 tocca a voi prendere in mano la vostra vita certamente sono degli strumenti e sono ad esempio dell'intelligenza io non ho bisogno di pensare sono in grado di pagare ma tanto io alla fine io ho i soldi pago ma quello che paghi pensa e decide per te va bene altri si assumeranno questa fastidiosa occupazione al mio posto a far sì che la stragrande maggioranza degli uomini fra tutto il gentil sesso ritenga il passaggio solo di maggiorità oltre che difficile anche pericoloso attenzione diventare grande è pericoloso è pericoloso c'è il bosco c'è il lupo nero ti guido io le persone che non vi fanno crescere sono quelle che vogliono proteggere che vogliono una bolla se voi siete dentro una bolla non diventare di un'umanità dentro la bolla ci sarà sempre un re un tiranno un papa un duce un condottiero un qualcuno che dirà senti decido io per te perché tu gli strumenti per la decisione non ce li hai è chiaro? ci sarà un rabbino che pensa per te un vescovo per te un iman poi dopo tu decidi di seguire il rabbino lo segui con la tua testa di seguire il prete con la tua testa l'imman con la tua testa di seguire l'imperatore con la tua testa è un moderato è canto non è un rivoluzionario sta solo dicendo che alle cose bisogna arrivare scegliendo utilizzando la propria testa essere maggiorenni vuol dire usare la propria testa per fare le scelte care ragazze e care ragazze fino a quando voi non fate delle scelte pagando in prima persona voi non sarete maggiorenni non come tana grafica come coscienza come anima siete maggiorenni quando le scelte che fate comporteranno delle conseguenze nelle vostre vite scelte fatte da voi conseguenze nelle vostre vite pagate in prima persona prego si è un movimento che ha dentro di sé una spinta a riformare la società da allargare anche alle strati più bassi di operazioni le opportunità se noi se noi pensiamo ad una scuola ad esempio che dia degli strumenti di emancipazione ed è illuminista noi possiamo avere il figlio di un ragazzo che è di giorni non istruiti che possono domani avere una scalata sociale ma non per il der per se stesso oggi la scuola italiana è tornata ad essere poco motore di movimento sociale